Siamo con mister Caserta al termine di Perugia Carpi, allora mister che tipo di partita è stata? Difficile come pensavo prima della partita, glielo avevo detto ai ragazzi, di fronte c'era una squadra che pressava, si è venuta a giocare la partita a viso aperto come immaginavo, quindi devo fare complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione, non soffrendo quasi mai tranne che in un calcio piazzato e al novantesimo sul tiro che hanno fatto, poi Fulignate non è mai stato impegnato durante l'arco dei 90 minuti, sono contento perché hanno fatto una grande prova di carattere, di dimostrazione, ma l'avevano già fatta con il Cesena e quindi bisogna continuare a lavorare. Qual è stata la svolta della partita? La concentrazione, l'attenzione che hanno avuto i ragazzi per 90 minuti, non c'è una cosa in particolare, questo gruppo lavora e ragiona tutti insieme, nel bene e nel male, quindi la svolta, non c'è una svolta, una vittoria è voluta a tutti i costi da parte di tutti i ragazzi. A questo punto del campionato conta più la condizione psicologica o quella fisica? Quella conta, dal punto di vista mentale, la cosa più importante nel calcio, fisico, la condizione fisica non ti permette queste partite così ravvicinate di poter recuperare dal punto di vista fisico, ma soprattutto non ti permette di poter lavorare durante la settimana. Quindi tanti calciatori giocano ogni in tre giorni da diverse partite, quindi non hai il tempo materiale per recuperare. Anche gli infortuni, a mio avviso, sono dovuti quando si tratta anche di problemi muscolari tipo quello di Crealese perché non è riuscito a recuperare una partita che abbiamo fatto col Cesena perché spendi tanto dal punto di vista fisico e mentale e Sgarbi invece è stata una contusione, quindi sei sempre soggetto a quelli di tipo di infortuni. Però ripeto, oggi ho visto una squadra con tanto carattere, tanta voglia di vincere e sono contento per i ragazzi. Ora c'è subito il gubbio. Sì, da domani si inizia a pensare alla partita, è un derby, bisogna cercare di fare una grande gara perché loro sono una buona squadra, ha avuto un momento di difficoltà all'inizio di stagione, poi piano piano è venuta fuori, le qualità sono venute fuori, quindi ci aspetta una partita molto difficile come quella di oggi.